Musica Iniziativa del Lions Leo Club Catanzaro Mediterraneo per la prevenzione dei tumori e delle malattie della prostata Buongiorno, questa mattina è il pomeriggio di quest'oggi, 20 aprile e il Lions Club Catanzaro Mediterraneo, unitamente il nostro CEO promuoviamo una giornata di screening e prevenzione prevenzione svolta nella mattinata, rivolta a pazienti o meglio quella fascia di popolazione che va dai 45 ai 75 anni ci avvaliamo delle competenze e delle professionalità del club per la prevenzione prostatica il nostro specialista del club è il dottor Massimo Felice Gisticò che adesso ci illustrerà rapidamente qualcosina nel pomeriggio invece andremo avanti con screening per quanto riguarda il diabete e per quanto concerne il sistema screening uditivo è rivolto quello del pomeriggio all'intera popolazione credo che questa iniziativa abbia trovato non solo il placet ma anche la soddisfazione da parte dei vostri associati ma credo di tutta la popolazione essendo come dicevamo prima un argomento molto attuale e la prevenzione fondamentale assolutamente sì iniziativa condivisa con l'amministrazione comunale che ci ha voluto supportare e ha patrocinato l'iniziativa che ha fortemente voluto le professionalità nell'ambito di questa tipologia di associazione che è composta appunto di professionisti perdonatemi la ripetizione viene messa a disposizione della collettività e della comunità ai fini praticamente del caso in questo caso medico in questa giornata di prevenzione benissimo grazie abbiamo lo specialista dottor Nestico buongiorno e allora dottor Nestico a lei chiedo ovviamente quali sono le patologie che ha riscontrato maggiormente in coloro in quali si sono sottoposti già a screening non so che numeri vi aspettate nella giornata di oggi i numeri sono sicuramente molto maggiori rispetto alle nostre aspettative il tumore della prostata ahimè da qualche decennio a questa parte è diventato il primo tumore per quanto riguarda il genere maschile a livello mondiale avendo superato anche il tumore del polmone e negli ultimi anni si è visto anche un abbassamento dell'età media della diagnosi del tumore della prostata questa è una campagna di sensibilizzazione come viene fatta un po' in tutto il mondo sensibilizzare alla conoscenza di quello che può essere un tumore addirittura guaribile oltre che curabile l'importante è sempre nella prevenzione primaria poter fare un'acuta e un'attenta diagnosi mi chiedo dottor Nisico i sintomi i consigli e diciamo quando devono partire gli screening le visite meglio allora la prima domanda i sintomi se noi avessimo sempre dei sintomi sui tumori non saremmo dei curatori saremmo dei salvatori dell'umanità ahimè una delle caratteristiche del cancro è quello di essere assolutamente silente il più delle volte nascosto e subdolo per questo noi sensibilizziamo la popolazione sia maschile ovviamente per contribuire il tumore della prostata che per le altre patologie tumorali ad una prevenzione primaria laddove non c'è nessuna familiarità per il tumore della prostata suggeriamo dai 50 anni in su di fare una valutazione urologica una visita ambulatoriale un dosaggio del PSA che è uno degli elementi di maggiore rilevanza una valutazione clinica della prostata per una valutazione ecografica laddove invece c'è una familiarità positiva ad esempio il papà o un fratello che hanno già avuto un tumore della prostata magari un campanello d'allarme deve partire un po' prima scende scende già intorno ai 40-45 anni oggi abbiamo veramente una vasta gamma per porre diagnosi di esami che vengono fatti fra cui anche la risonanza magnetica multiparametrica e quella che si chiama la biopsia di fusione o fusion biopsia e questo ci dà un cancer detection rate cioè una percentuale di scoperta di tumore che raggiunge quasi il 98% Consigli? I consigli sono solo quelli di farsi valutare in ambito specialistico di seguire quelle che sono ormai le indicazioni date in tutti i luoghi una buona dieta una buona igiene di vita e altri consigli particolari non se ne possono dare grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti